Musica Gli sfondo fino a casa ragazzi No guarda Vai tranquillo E' allergia La gira dei genieri per prima cosa Bisogna colpire Potrei utilizzare il mangano Per torri Però meglio di no Troppo impreciso E preferisco Beccare l'ingresso in questa maniera Trabocco pronto sir Calcolare il tiro Sei il secondo signore più potente Un messaggio dal Califo Cosa? Così in padre le mie terre La pagherai cara per questo La gente guarda che con fiducia Non esige Trabocco pronto sir Calcolare il tiro Proviamo con i diversivi Proviamo con i diversivi Un messaggio dal Califo Allontana il tuo esercito Dalle mura del mio castello Immediatamente Che è tutto ragazzi Vedete? Prepariamo i mazzieri Eh Matteo non te la posso riscattare Con questo gioco non la posso riscattare Perché essendo vecchio Appena cambio la scena nel gioco Succede un finimondo Quindi non te la posso riscattare Eh oh ben ben Dovevo sacrificare qualcosa Però non ne abbiamo perso neanche uno Vedi eh Ora sono 50 tondi tondi Casera mandata Qual è il problema Siamo ricchi di pietra Guarda quanta pietra c'è qui 500 Quanti abbiamo 50 mazzieri Sono pochi ragazzi Abbiamo un bel po' di cibo Siamo sotto attacco Prepariamoli Quanti sono 53 Dovremmo farcela eh A togliercelo dalle scatole Questo qua Però Trabocco pronto sir Calcolare il tiro Purtroppo ci sono i pozzi Incendiari qua dentro raga Moriranno A decine Mamma mi vedete ragazzi La porca Puttana Quando cazzo Le ha recuperate Quella pece Questo qua Ma se non c'era niente Poco fa Vedete ragazzi Come si muore Eh dai Cazzo Si trabocchi Mezzi ritardati Cazzo Eh ciao Purtroppo Calcolare il tiro Noi siamo i mazzieri Dai Entrate Su Sta lontano Da venire Infedele Sta lontano Cosa mi serve Forza Forza Eliminato ragazzi Giù Il primo califo E' andato Bisogna di muscoli Cosa Un messaggio Da bagnale Siamo realmente Impressionati Dalle tue gesta Grazie Ben ben Grazie Abbiamo sacrificato Un zacco di uomini Però Adesso la marcia Si fa più lunga Nei confronti Di Saladino Quindi Bisognerà Muoversi meglio Il mio arco E' vostro Ci muoviamo Vedete che si legge Ragazzi E adesso Lo vedrà Sulla sua pelle Il nostro Saladino Che lì è il nord Noi nel frattempo Possiamo prendere Il controllo Di tutte queste terre Un messaggio dal sultano Il vento del deserto Soffia potente In direzione Delle tue terre Mi piacciono molto Questi tratti Da filosofo Del nostro Abdul Vedete ragazzi Sta iniziando L'assedio Saladino In parte Era ostacolato Dalla presenza Dell'alleato Noi siamo I mazzieri Vieni Quindi dovremo Nuovamente Andare a Ricreare Il nostro esercito Sto Godzilla Ragazzi Non sono un uomo Vendicativo Quando sarai Mio pregoniaro Avrai salva la vita Forse potrai Badare Ai miei cammelli Che generoso Saladino Ragazzi Un messaggio dal sultano Oggi il cielo Non è stato favorevole Al sultano Ok La prima ondata È andata La prima ondata È andata Ok Forza Il magazzino È stracolmo Mio signore Servono altre Reclute Sire Nentab Moriranno come Zebedei Ragazzi Questo era L'esercito Di Saladino Tre uomini Adesso Ancora parla Saladino Forza Saladino Su Strunz Un messaggio da Saladino Per la barba del profeta Combatti bene Troppo bene Temo Ti dovrà badare i cammelli Di stronzo Come vedete ragazzi Lui quotidianamente Inizierà adesso a mandare Un sacco di uomini Per contrastarmi E quindi Dovremmo difenderci Spesso Lui ha un sacco di soldi Ragazzi Già E ha 13.000 E continua a investire Ragazzi Nell'esercito Siamo pronti Servono altre Reclute Sire Vabbè Quello che faremo Anche noi Il Saladino Fare la fine Di Kong Nel film Godzilla Versus Kong E c'è spoilerato Vedete ragazzi Matteo Mi hai spoilerato Te l'avevo detto Non dovevi dire Come finiva quel film Alla fine Me l'ha spoilerato Era più forte di lui Siamo pronti Servono altre Reclute Sire Dai perché Dai perché Guarda Vedete come si fa Ammazzare Il mio alleato Sta facendo Sterminare Dagli uomini Di Saladino Ora gli dico Attacca Un messaggio Dal maiale Il mio padrone D'accordo Altrimenti Si fa ammazzare Anzi Lo dico Fai così Attacca Abdur Abdur Che è più facile Siamo pronti Servono più Nel frattempo Resta da solo Ora non lo guardo più Eh Sono spoiler Questi Matteo Non devi spoilerare Trabocco pronto Sir Fuori dagli strumenti D'assedio Cosa c'è da fare Ci muoviamo Li mandiamo a fare altro Ad esempio È una bella distanza Iniziamo a preparare L'assedio Contro Abdul Eh lo sapevo Lo sapevo Fin dall'inizio Mi servono i balestieri In quantità industriale Che devo mandarli Condro Abdul Vabbè Il mio alleato Non è in grado Di fare un assedio Un assedio serio Quando finisce sotto terra Moneda morta Da re Come Godzilla Re della nostra Ancora spoiler Ciao Peppe Benvenuto A voi smettere Questi spoiler Bannate Matteo Che lui è il moderatore Cazzo Moderatore Che fa Più Moderazioni Schifose Ah meno Giuste La gente A grande stima Di te A meno Ah non c'è birra Ecco perché Ah parlate cazzo Parlate Non c'è birra Ma io Dovevo fare Quelle che Producono la birra Invece Mi sono fregato Tre birraiole Anzi quattro Ecco perché Adesso ci riprendiamo Guardate con fiducia Il nostro tesoro Si sta prosciugando La gente non si fida Di te Mio sire Eh mamma mia Sono un brav'uomo Io Regno con coraggio Allora questi Li posso mandare a casa Mi sono liberato L'angolo Per farmi Le scuderie A formula 1 Sono 4 Almeno facciamone 6 Dai 6 stalle Adesso arrivano i cavallini Ragazzi Rampanti Ripariamo l'assedio Contro Abdull 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 Birra a volondà Benben Hai fatto la sub Sì o no? Peppe no Ma la farà La farà Peppe la farà Un giorno Ma la farà Sto aspettando L'allineamento Dei pianeti Ragazzi Allora ragazzi Un grappello Di uomini Sono pronto Quello sta attaccando Con la catapulta Va bene Va bene Forse mi baseranno Soltanto I mazzieri Niente di straordinario Però mi sto facendo I cavalieri Che sono fortissime Sono l'unità più forte Del gioco Però non possono Ammazzare il lord Perché sto a cavallo E non posso Scendere dal cavallo Mi hanno un difetto E' una minchiata E' una minchiata Non possono scendere Dal cavallo Però C'è uno è entrato E' ammazzato Un ubriacone Allora Prendi gli arcieri a cavallo Vai qui Vado a quello Dove è piazzato l'esercito Vicino alla Mineria di pietra Dai che arrivano Dai che arrivano i Frombolieri La tua popolarità Sta crescendo Certo Un bel po' di arcieri Ce l'hanno All'interno Qua sopra Però non dovrebbe essere Un problema Per i miei cavalieri Attendiamo Quanti so già Va bene 12 Va bene 12 La distanza Non è un problema Dovrebbe essere Velocissima Sfondare il cancello Hanno il culo Totalmente utili Avete in mente qualcosa Allora Non è spoiler Vi faccio confondere Forse vince Kong O vince l'uomo O vince Godzilla Vincono gli alieni Conoscendoti Non l'avresti neanche detto Adesso Se la prenderanno Con la cavalleria E infatti Lo sfondo Sono velocissima Se ci può andare Veloci Veloci Subito la caserma Non ce l'hanno fatta Ragazzi Erano troppi Vabbè ormai Facciamolo suicidare Erano troppi Oh Ma quante cazzo so Mi distraggo un attimo Ragazzi Vedete ragazzi Non si scherza Contro Saladin Saladin Non è accessibile Siamo pronti Devo battere Ritirato ragazzi Devo mandare I miei spadaccini A contrastarli Sono pronto Questo è difficile Questo è difficile Ragazzi Vabbè Adesso li fanno fuori Perché intanto Sono mezza Mezza salute Anno Però Ho rischiato Allora Mi servono più Reclute Gepard Gepard Non parli Non ci dici nulla Che ne pensate ragazzi Del nuovo Del nuovo alert Con il follo L'ho realizzato io Con il luogo Di Nicron ingendiato Certo Con la melodia Dei pokemon Però Mi piaceva Farmi Sire Siamo sotto attacco